Fra i tanti commenti che vengono lasciati qua ai miei video ce n'è stato uno ultimamente che mi ha colpito in modo particolare, e più o meno diceva, sarebbe interessante capire come può uno psicologo aiutare. Non ho capito se era una domanda sarcastica o se era una domanda vera, però credo che valga la pena spendere quattro parole per dare una risposta. Sono stato obeso per vent'anni, ma due anni fa mi sono sottoposto a chirurgia bariatrica, ho battuto obesità, steatosi epatica, diabete, ipertensione, apne notturne e molto altro. Da allora faccio questi video per aiutare altri a trovare la loro strada e guarire dall'obesità. Supporta questo progetto, iscriviti al canale, lascia like e i tuoi commenti, ma soprattutto condividi questi video su tutti i suoi social media. Lo psicologo, ma giammai, lo strizza cervello, ti incasinano la testa, ci sono un sacco di persone che hanno paura dello psicologo, una paura pazzesca dello psicologo, come se stessero andando a fare chissà cosa, chissà dove, chissà perché e chissà con chi. Beh, insomma, io credo che lo psicologo sia una figura fondamentale nella vita di tutti e soprattutto nella vita di tutti i giorni di questo periodo storico. Forse a un tempo era più facile confrontarsi con gli altri, forse un tempo era più facile avere degli scambi interessanti con le persone che ci stavano intorno, degli scambi costruttivi. A me sembra che ultimamente siamo sempre più isolati, sempre più paurosi di confrontarci, di ascoltare i punti di vista degli altri, di ragionarli sulla nostra storia personale e di crescere insieme alle persone che abbiamo intorno. Forse stiamo rimanendo più soli, forse ci stiamo circondando troppo spesso delle persone sbagliate, anche perché tutto sommato c'è una frase che mi ha colpito ultimamente che dice che noi non siamo altro che la media delle cinque persone che frequentiamo più spesso e su questo poi magari approfondiamo l'argomento perché mi ha colpito e lo trovo estremamente vero. Ma il discorso è che abbiamo bisogno come esseri umani di qualcosa o qualcuno che ci faccia da specchio e ci permetta di metterci costantemente in discussione in modo costruttivo. In questo momento sicuramente lo psicologo è la persona che può fare questa cosa nel modo più professionale ed efficace possibile. E non sto dicendo che bisogna andare allo psicologo se non si ha amici con cui si possono fare queste cose, sto dicendo che lo psicologo è una figura professionale che riesce a fare delle cose eccezionali per aiutarci a esplorare chi siamo noi dentro e perché facciamo determinate cose. Ma come si cala questa cosa nel problema legato all'obesità pre e post intervento chirurgico e tra parentesi, non solo relativamente all'intervento chirurgico. In un altro video che vi lascio qua da queste parti ho parlato tanto del perché parlo di percorso per arrivare alla chirurgia bariatrica, percorso dopo la chirurgia bariatrica e in modo più ampio un percorso di vita che ci accompagna da quando si nasce a quando andiamo via da questo mondo. Il concetto chiave è un po' lì. Facciamo tutti una strada nella nostra vita e questa strada ci porta a essere esposti a degli avvenimenti, a degli stimoli, a degli incontri, a delle cose che succedono nella vita, in parte che possiamo governare, in parte che subiamo e in parte dove effettivamente potremmo fare qualcosa ma non tutto. È il gioco della vita. Funziona così, funziona così per chiunque. Ma questo come ci influenza? Questo ci influenza al 100% perché siamo quello che siamo in base a quello che abbiamo fatto nella nostra vita. Siamo le persone che siamo e siamo nel punto della nostra vita in cui ci troviamo per tutto quello che abbiamo fatto prima. Siamo un sistema con memoria e quindi ogni giorno è figlio di quello che è stato prima, nel bene e nel male, sia in una spirale di miglioramento sia in una spirale peggiorativa. Ma queste spirali, questi avvenimenti che ci avvengono intorno, queste cose che ci condizionano, che ci fanno crescere, come possiamo in qualche modo governarle meglio e gestirle meglio. Attraverso la nostra testa, attraverso le nostre idee, attraverso le nostre attitudini, attraverso il modo in cui decidiamo, grazie a idee e attitudini, di cambiare qualcosa nella quotidianità. E che cosa si può cambiare? Beh, ovviamente si cerca e si tende di cambiare quelle cose negative, quelle cose che ci portano in atteggiamenti che ci fanno male. Gli atteggiamenti ci fanno male in mille modi, ci fanno male perché ci precludono la serenità, perché ci portano in braccio delle malattie come l'obesità e perché ci fanno fare delle scelte tossiche per la nostra vita di tutti i giorni, ci fanno continuamente stare intorno a persone sbagliate e a rifugire magari delle persone più adatte a noi. Ci portano a essere quello che siamo. Ma allora vuol dire che noi possiamo usarla, questa testa, questa volontà, questa idea, per cambiare le cose. E lì sta il trucco. Cambiare le cose. Quando si dice che si può essere ciò che si vuole, si dice che mettendoci l'attitudine giusta, possiamo arrivare a cambiare e a fare un po' quello che vogliamo. Poi non è che siamo tutti Leonardo da Vinci, o non è che siamo tutti Michelangelo, ci sono delle cose che sono più nelle nostre corde. È ovvio che se riusciamo a entrare in contatto con noi stessi, riusciamo anche a entrare in contatto con quelle cose di noi che ci rendono speciali, più speciali, quelle cose che sono radicate dentro di noi che possiamo fare in modo migliore perché la nostra inclinazione naturale è farle venire a galla. Quindi puoi fare quello che vuoi, puoi essere quello che vuoi. Vuol dire vai a trovare chi sei e tirarlo fuori al meglio. È ovvio che se io sono nato per essere una persona che si occupa di tecnologia, che capisce scienza, magari faccio più fatica in altri ambiti. Quella è la mia strada, quello mi accende, mi appassiona, mi incendia. Non il resto. Ma arrivare a fare quello che voglio è arrivare a capire cosa voglio fare e portarlo fuori ed esserlo. E trovando la strada giusta e sana si può lasciare indietro tutto quello che ci costruiamo intorno e che a un certo punto ci fa sentire in una gabbia. A un certo punto ci schiaccia, ci opprime e ci obbliga a sopravvivere. E come fai a sopravvivere? Cerchi le vie di fuga. Perché noi siamo umani e siamo fatti per vivere, sopravvivere, combattere un altro giorno. Siamo fatti così. E se cerchiamo di andare contro mano, cioè se andiamo contro quello che è la nostra natura, la nostra inclinazione, quello che dentro abbiamo e che possiamo portare fuori per renderci persone migliori e da regalare al mondo perché il mondo diventi migliore, se andiamo contro queste cose, l'unica cosa che cerca di fare incoscientemente il nostro io è sopravvivere. Al meglio, con gli strumenti che abbiamo. Sono strumenti di emergenza. Non sono strumenti sani. O meglio, sono sani per gestire una situazione particolare in un momento particolare. Ma se diventa una situazione quotidiana, continuiamo ad applicare qualcosa che potenzialmente ci fa male, che dovrebbe aiutarci a uscire da una situazione in un certo dato momento e ci roviniamo la vita. O ce ne roviniamo una grossa fetta della vita. E cosa succede? A quel punto succede che si cade nelle dipendenze. Che siano droghe, alcol, che sia il cibo o che sia qualunque altra dipendenza o ossessione che usiamo come anestetico per tirare avanti un altro giorno. Ma perché dobbiamo iniziare ad andare in quella strada? Cerchiamo invece di andare in contatto con noi stessi e capire chi siamo e cosa vogliamo e come possiamo vivere bene. Perché se riusciamo a fare questo è tutto più semplice. Perché è diverso il rapporto che abbiamo col cibo con il rapporto che abbiamo con l'acqua? Hai sete? Bevi. Hai saziato la tua sete? È finito. Il corpo ci manda un segnale che ci dice è necessario bere, che chiamiamo sete, lo riconosciamo, diamo al nostro corpo quello che gli serve, fine. Meccanismo perfetto che ci aiuta a stare meglio. Punto. Perché col cibo è diverso? O dovrebbe essere diverso? Ti viene fame? Perché? Perché il tuo cibo ti dice che hai bisogno di nutrimento in quel momento. Mangi quello che ti serve a stare bene, bene? Stai bene. Uguale che con la sete. Ma a un certo punto qualcosa è andato storto lì dentro, perché nel momento in cui mangiamo determinati cibi, con determinati zuccheri, con determinate cose e sostituiamo il valore che ha il cibo come carburante per vivere con qualcosa che ci dà una soddisfazione, con qualcosa che ci fa stare meglio nell'immediato. È una dipendenza. E di nuovo ci cadiamo dentro. Perché se abbiamo bisogno di appagarci attraverso qualcosa di diverso da quella che è la nostra vita del quotidiano, continuiamo ad andare a cercare la cosa più facile, che tipicamente sta in cucina nell'armadietto. Ma quindi, se riesco a riconoscere questi miei comportamenti, posso lavorarci. Certo, se parto dal concetto che tanto io non lo faccio, tanto a me non succede, tanto no, non è vero, non puoi controllare niente, non puoi governare niente, non puoi affrontare niente. Se invece inizi a renderti conto che sì, effettivamente se sono obeso e non ho una patologia, quindi non ho un problema metabolico che mi porta a non utilizzare nel modo corretto il cibo che mangio, vuol dire che sto mangiando troppo. Sto mangiando troppo, o come quantità, o sto mangiando le cose sbagliate. Perché non è che mangiare due etti di carne sia la stessa cosa di mangiarsi due etti di tiramisù. Sono cose differenti e come tali vanno gestite. Bisogna arrivare a trovare il giusto equilibrio nelle cose che ci fanno stare bene e nella nostra vita riuscire a fare quelle cose o eliminare quelle cose che ci fanno stare male. Se riconosco il problema posso lavorarci. Se ci lavoro posso risolverlo o quantomeno lo posso rendere più innocuo. Il più innocuo possibile. Ma come faccio a fare tutta questa roba se non sono riuscito a farlo in tutta la mia vita? Beh, qui entra in gioco lo psicologo. Attraverso lo psicologo, attraverso l'esplorazione che fai all'interno di te stesso, puoi andare a comprendere dei meccanismi che magari da solo non arrivi a comprendere o ci metti molto 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 più tempo. È un catalizzatore, è uno strumento, è un acceleratore che ti permette, è un faro che ti illumina delle zone buie che evidentemente non riesci o non vuoi andare a toccare perché ti fanno paura ma che a un certo punto ti libera. Diete, sport, chirurgia, qualunque cosa è uno strumento che ci permette di far fronte a un sintomo, l'obesità. Ma il problema non è che sono obeso, perché la domanda è come ho fatto a diventare obeso? Non si nasce obesi, si diventa, chi nei primi anni di vita, chi dopo, ma si diventa e si perpetua il continuare a essere obesi, a peggiorare l'obesità o anche tenerla costante. Quindi cos'è che facciamo quotidianamente che ci porta a vivere una vita obesa? Dobbiamo lavorare su quello e lo psicologo ci aiuta in questo, è fondamentale. È un bel po' che mi chiedo, ma se avessi fatto delle cose leggermente diverse nella mia vita, quali sarebbero state le conseguenze nella mia vita? Cioè, se a un certo punto da giovane, da ragazzo, avessi potuto usufruire meglio di aiuti e di risorse per conoscermi meglio e per capire meglio quelle cose su cui avrei potuto lavorare per tirare fuori la parte migliore di me, sarei diventato obeso. E onestamente forse no, perché forse avrei avuto la possibilità di trovare cos'era quella cosa che mi spingeva nella direzione sbagliata. Io non mangiavo fuori pasto, per cui quando mi dicevano spizzichi in giro la fame emotiva. No, onestamente no, prima non l'avevo la fame emotiva, fuori pasto, ma evidentemente quando mi sedevo a tavola tre volte al giorno, colazione, pranzo e cena, mi ammazzavo di cibo. Ora lo vedo. Prima avrei giurato e spergiurato a chiunque, con chiunque che non era così. E per assurdo, anche le persone che mi erano più vicine, tutto sommato mi dicevano, ma sì, ma non è che mangi poi così tanto più degli altri. E quindi, mistero del perché ero arrivato a 170 kg. Mistero, no, non è un mistero. Ci vuole qualcuno fuori, che è un professionista, che ti guarda con un occhio critico e obiettivo, ti aiuta a trovare una strada per metterla a posto. La chirurgia è stata la mia strada, perché a un certo punto non ho potuto fare altro di diverso. Magari, se mi fossi mosso prima, avrei trovato altre strade, efficaci. Magari, se avessi cominciato così da ragazzo, non sarei neanche arrivato ad avere problemi di obesità. Avrei trovato dei meccanismi più sani. Non dico perfetti, che palle, non voglio essere perfetto. Però sicuramente avrei potuto lavorare meglio. Avrei potuto lavorare meglio, molto probabilmente sulla parte dell'obesità, che è una malattia e si porta dietro tutto il mondo. Avrei magari potuto lavorare meglio per capire perché certi meccanismi mi spingevano a cercare le persone sbagliate nella mia vita e attaccarmi a loro in quel modo così morboso che mi ha portato tanto dolore. Sì, mi ha portato anche tanti momenti belli, ma a un certo punto diventavano relazioni tossiche. E la colpa è sempre da due parti. Avessi potuto comprendere, avrei potuto fare un qualcosa, delle scelte con un po' più di lungimiranza, capendo un pochino meglio quello che stavo facendo e subendole un pochino di meno. In tutti i frangenti della mia vita. Lo stesso discorso vale per i miei figli. Io sono convinto che il fatto che le scuole offrano anche lo psicologo all'interno della scuola sia un grandissimo aiuto per questi ragazzi. E io spero che lo usino tutte le volte. Tutte le volte di cosa? Eh, bisogna raccontarlo ai nostri figli, bisogna parlarne anche a loro. Che è giusto, che è bello, che è importante andare da uno psicologo perché ti può aiutare. E allora poi imparano a usare questo strumento così come si impara a usare qualunque cosa che ci fa bene. È uno strumento umano, è una persona con cui poi crea anche un legame che sia professionalmente che personalmente ti conosce meglio e ti può aiutare a essere la miglior versione di te stesso. Non abbiamo paura di andare dal dentista quando ne abbiamo bisogno, non abbiamo paura di andare dall'oculista se abbiamo bisogno degli occhiali, abbiamo un po' più di paura ma alla fine dal medico ci andiamo se dobbiamo curare un male, una malattia o un disagio. Lo stesso vale per quello che abbiamo dentro. Ci aiuta a guardare la vita in un modo diverso. Allarga gli orizzonti. A chi più, a chi meno, a chi è fondamentale, a chi è una cosa che gli dà una marcia in più. Ma ragazzi, lo psicologo fa tantissimo. Nel dubbio, provate ad andarci. Tutti noi abbiamo qualcosa per cui parlando con uno psicologo potremmo stare meglio. Tutti. E non è che siamo matti o che abbiamo dei problemi. Fa parte della vita di tutti i giorni. Ci aiuta tantissimo. Provate. Cosa avete da perderci? Provate. Ti è piaciuto il video? Lascia un like e condividi questo video che così gira. Se trovi che questo progetto sia utile, lasciami un super grazie e voi abbonati al canale. Così lo sosterrai anche economicamente. Qua, vostra resta e mia sinistra, trovate i link a altri miei video che potrebbero interessarmi e sotto i link al canale dei viaggi in moto che facciamo io e la fra. Ciao e al prossimo video.